resa dei conti vicina al grande fratello nella puntata di sabato prossimo alfonso signorini chiamerà al faccia a faccia alcuni dei concorrenti dopo aver ripreso duramente varrese nel corso dell'ultimo appuntamento saresti da squalifica aveva detto il conduttore ecco che sotto la lente di ingrandimento finisce beatrice luzzi che nelle ore scorsa ha avuto uno scontro con un altro inquilino intanto a gettare benzina sul fuoco ci sta pensando rosic la chef milanese ha detto a chiare note di non vedere in tutti uno spirito bonario anzi io penso che ci sono delle persone che sono disposti a fare dei grandi sgambetti per andare avanti nel gioco farebbero di tutto per emergere parole che se sono state condivise da qualcuno non lo sono affatto state per fiordaliso che si è detta in disaccordo con la chef io non la penso come te ha detto non penso ci siano persone pronte a farti lo sgambetto per arrivare che poi tutti vogliono la finale è un altro ragionamento ma io non penso che ci siano dei burattinai quello no tornando a beatrice luzzi sembra sia arrivata alla fine l'amicizia con marco maddaloni dopo che il giudoca ha detto più trascorro tempo con te più il gruppo mi nomina parole dette in tono scherzoso ma che non sono state apprezzate da beatrice sei sgradevole non ti avvicinare più mi hai detto una cosa sgradevole che non sono state apprezzate da beatrice sei